The Wall, l'album mitico dei Pink Floyd. Esistono molte edizioni, adesso parliamo sia di vinili che di CD. In realtà le due migliori, quelle che suonano veramente bene, sono la prima stampa giapponese e questa nuova di stampa curata da Bernie Grudman uscita negli ultimi anni. Attenzione, le nuove edizioni dei Pink Floyd su vinile non esistono su CD. L'edizione CD di The Wall suona molto peggio rispetto a questo. Ha una qualità audio strepitosa, strepitosa. Rispetto a quella giapponese non saprei dirvi esattamente quale sia la migliore. Per me si equivalgono, sono da 10 entrambi.